Allora ragazzi, questo sarà un vlog un pochino così traballante, ma soltanto perché non ho voglia di mettere la telecamera al cavalletto, lo faccio così traballante, tanto è abbastanza veloce ma comunque intenso. Allora, vi volevo innanzitutto ringraziare perché oggi, cioè non oggi, ma il giorno in cui voi vedrete questo video online, sarà un anno che sono su YouTube, quindi che faccio video su YouTube e in un anno ragazzi abbiamo fatto bene 61 iscritti, quindi veramente grazie, io ringrazio iscritto per iscritto, persona per persona e non solo gli iscritti, ma anche tutte quelle persone che hanno messo mi piace ai miei video, a tutte quelle persone, poche ma buone persone che ogni tanto lasceranno un commentino, quelle persone che non lo so, spero che ogni tanto li condividano. Grazie veramente di tutto ragazzi perché in un anno fare 61 iscritti non è poco per me, veramente, grazie di tutto. E quindi questo vi volevo dire principalmente, un anno di video, tra pochi giorni esce un nuovo video ragazzi, esce un nuovo video che non vi spoilerò niente ma che vi dirò che non è un video particolarmente lungo ma è un video che ho messo tanta passione per farlo, diciamo che ci ho messo veramente la passione più totale, come sempre, ma veramente questa volta ci ho messo un lavoro, un lavoro, un lavoro per quanto riguarda riprese, montaggio e devo ancora finire alcune riprese, quindi veramente se viene poi alla fine come l'ho scritto, come l'ho pensato e come l'ho scritto poi viene un bel video, speriamo che venga come ho in testa che venga. Intanto arrivano messaggi, sì, e vi lascio in descrizione il link alla mia pagina Facebook che qualora non avete ancora messo vi piace vi invito a visitarla, a mettere vi piace perché ogni volta che esce un nuovo video, che sia video video o che sia vlog o che sia quel che so io o comunque un video mio, viene automaticamente condiviso sulla pagina Facebook e qui. Dai ragazzi, ciao, 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 ciao.